Mostrato per la prima volta all'accesso di Las Vegas, ecco Zolt, l'alimentatore da 70 watt in grado di ricaricare contemporaneamente tre dispositivi inclusi laptop, tablet, smartphone e fotocamere. Si tratta di un piccolo cilindro facile da nascondere in una tasca della custodia del pc o dei pantaloni. Zolt è il più piccolo caricatore universale per pc e per altri dispositivi usb mai presentato. Con il suo peso piuma, appena 85 grammi, sarà messo in commercio in primavera al costo di 100 dollari.